Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Brenda Delgado, la protagonista del caso di oggi, nasce nel 1982. Suo padre Luis lavora come operaio in una fabbrica del Messico centrale, ma aspira a una vita migliore per lui e per la sua famiglia. Così, dopo aver visitato diversi stati, compreso il Texas, decide di trasferirsi con sua moglie Maria e i suoi cinque figli a Dallas, che lui definisce come la città delle opportunità. La famiglia Delgado alloggia in una modesta casa a Pleasant Grove, una comunità a basso reddito situata nel sud-est di Dallas. Luis trova un impiego nel settore dell'edilizia, mentre Maria lavora per l'ufficio postale e in più fa le pulizie. Brenda è la seconda di cinque figli ed è l'unica femmina. La ragazza è una studentessa eccellente, i suoi insegnanti l'apprezzano molto. Dopo la scuola, Brenda lavora part-time in un negozio di fiori e anche come cameriera. Una volta diplomata alla Skyline High School nel 2000, vorrebbe iscriversi al college e laurearsi in medicina, ma poiché i suoi genitori non possono permettersi di pagare le tasse accademiche, Brenda resta a casa. Frequenta una chiesa evangelica, ottiene un lavoro come assistente dentale e accetta un secondo impiego presso una spa nel North Park Center, ossia un famoso centro commerciale di fascia alta del North Dallas, dove si occupa dello sbiancamento dei denti. Di tanto in tanto esce con le amiche e si reca a ristoranti e bar fashion nel quartiere di Uptown. In questa zona le donne si vestono alla moda, comprano abiti costosi, mentre Brenda è solita fare acquisti nei negozi low cost. Nonostante ciò i ragazzi interessati a lei non mancano di certo. Stando al ciò che dice suo fratello, Brenda però non esce con chiunque, è molto selettiva e se va fuori non beve troppo. Ancor più, al primo appuntamento con un uomo, Brenda è solita presentarsi con uno dei suoi fratelli oppure con un'amica. Poco tempo dopo, Brenda lascia la casa dei genitori e si trasferisce nel nord-est di Dallas. Si sistema nella camera degli ospiti dell'appartamento di un'amica di infanzia e di suo marito. Continua ad andare ogni tanto a Uptown e scarica alcune app per incontri. È grazie a una di queste che conosce Ricky. Ricky ha 38 anni, è originario della California e aveva conseguito la laurea alla prestigiosa facoltà di medicina di Stanford. Era arrivato a Dallas nel 2011 per completare la sua specializzazione in dermatologia presso il Southwestern Medical Center dell'Università del Texas. È avvenente e magro, ha capelli corti e neri. Ha sempre amato studiare e fare ricerche. Non è un grande chiacchierone, anzi si mostra piuttosto introverso. Ricky tra l'altro sta per divorziare. Infatti prima di trasferirsi in Texas viveva da sposato. Brenda e Ricky dunque iniziano a frequentarsi. Come detto, lui è un giovane bello e ambizioso e sicuramente non passa inosservato davanti alle ragazze. Ma tra tutte le donne che ha conosciuto a Dallas, Brenda lo attira e incuriosisce di più. Anche lui proviene da un contesto umile. Era cresciuto in una roulotte nelle zone rurali della California settentrionale e apprezza la volontà di Brenda di impegnarsi per costruirsi una vita migliore. In occasione del loro primo appuntamento, Ricky la porta a un concerto di Jennifer Lopez all'American Airlines Center. Brenda quasi non ci crede, comincia subito a adorare Ricky, lui si prende cura di lei, la riempie di attenzioni. Tutto procede bene, fino a quando a novembre del 2012, cioè tre mesi dopo il loro primo appuntamento, l'amica d'infanzia di Brenda la mette al corrente che lei e suo marito vogliono lasciare l'appartamento. Brenda a questo punto chiede a Ricky se per caso può stare da lui, non vuole tornare a casa dei suoi genitori. Quest'ultimo accetta, anzi la invita immediatamente a trasferirsi nel suo appartamento, che si trova nell'elegante Fizio Aban Flats. Brenda, ora che la conoscenza è avanzata, porta Ricky a casa dei suoi genitori e lo presenta come il suo ragazzo. Maria, sua madre, prepara la cena, Ricky cerca di parlare spagnolo con lei e Luis. Nei mesi successivi la relazione diventa ancora più solida. Nell'aprile 2013 Brenda pubblica un messaggio di auguri di compleanno a Ricky sulla sua pagina Facebook. Le scrive, buon compleanno all'uomo più straordinario e intelligente che abbia mai conosciuto. Ricky, insieme abbiamo condiviso così tanta felicità, sei il mio migliore amico, ti amo con tutto il cuore e non riesco a immaginare la vita senza di te. Due mesi dopo, a giugno, Brenda scopre di essere incinta, però dopo aver parlato con Ricky decide di abortire. Brenda non racconta nulla alla sua famiglia, ma sulle note del suo telefono scrive un messaggio per rivelare a se stessa quanto l'angosci questa situazione. Tuttavia si ripromette che un giorno lei e Ricky avranno dei figli. La loro relazione prosegue e nell'autunno del 2013 Brenda si iscrive alla scuola di igiene dentale a Stanford Brown. Durante la prima lezione a cui partecipano circa 20 studenti, l'insegnante chiede loro di presentarsi. Mentre tutti gli altri raccontano di sé e dei propri obiettivi, Brenda parla principalmente di Ricky. All'inizio del 2014 Brenda indossa un anello che le ha regalato Ricky. Il matrimonio pare sia all'orizzonte. Brenda, dunque, porta Ricky in Messico per fargli conoscere i suoi parenti. Inoltre ottiene un lavoro come assistente dentale nei fine settimana, in modo da contribuire a pagare un nuovo appartamento più grande. Composto da due camere da letto, si organizza pure con sua madre affinché lo pulisca una volta a settimana. Inaspettatamente, o il giorno di luglio del 2014, Brenda arriva a lezione, in lacrime. Ricky l'ha appena lasciata e ha intenzione di trasferirsi. Il motivo della sua decisione non è chiaro, forse Ricky non si sente pronto a risposarsi, d'altronde aveva divorziato da poco. Qualunque sia la ragione della rottura, Brenda non la prende affatto bene. I suoi voti calano, e anche drasticamente, nel giro di poche settimane e alla fine si ritira dal programma di igiene dentale. Ricky, invece, sembra stare bene, va avanti con la sua vita, insomma. A settembre si iscrive a un corso di salsa, ma una sera arriva in palestra e vede Brenda tra gli allievi dall'altra parte della sala. I due ballano con partner diversi, ma dopo un po', tra un cambio partner e l'altro, si ritrovano a danzare insieme. Proprio grazie a questo ballo, la scintilla si riaccende. I due rincominciano a frequentarsi, inizialmente solo per esercitarsi nella salsa. Brenda, nel frattempo, ha affittato un piccolo appartamento vicino al centro, a circa un miglio, da casa di Ricky. L'uomo questa volta non le chiede di trasferirsi da lui, ma decide di darle una mano pagando alcune delle sue spese. Dopo qualche mese sembra essere tornato tutto alla normalità. La relazione sta andando talmente bene da lasciar pensare di nuovo a un matrimonio. Il padre di Brenda, Luis, chiede a Ricky che intenzioni abbia nei confronti della figlia e Ricky lo rassicura. Ma in realtà ancora una volta il giovane nutre dei dubbi sulla sua relazione. Alcune questioni personali lo assorbono e non riesce proprio a portare avanti una storia. Così nel febbraio del 2015 Ricky lascia nuovamente Brenda. L'uomo sostiene che lui e Brenda sono rimasti amici platonici perché ogni tanto si sentono. In effetti Ricky continua a vedere Brenda casualmente. La donna passa vicino a casa sua quando va a correre. Poi, un giorno, mentre Ricky è a cena con una ragazza che sta frequentando, ritrova Brenda nel ristorante. Solitamente quando finisce una relazione può accadere che uno dei due ex tenga d'occhio l'altro. Chi non ha mai controllato il profilo Facebook di un ex? Chi non ha mai provato a scoprire qualcosa sul nuovo partner di una ex o di una ex anche solo per soddisfare una curiosità? Il problema è che Brenda non si limita a essere curiosa. Lei organizza una vera e propria operazione di spionaggio. Insomma, conosce l'email di Ricky e la password del suo iCloud. Inoltre ha anche una chiave del suo appartamento. Per di più, Brenda scarica un'applicazione che le permette di rintracciare la posizione del cellulare di Ricky. Quella primavera, Brenda salva degli screenshot di messaggi che Ricky si scambia con la sua nuova ragazza e anche gli screenshot delle prenotazioni aeree che lui aveva fatto per la coppia col fine di visitare Denver. Brenda, in questo caso, è attenta. Insomma, non dice niente a Ricky, né fa nulla per turbare la ragazza come lasciare messaggi vocali anonimi minacciosi in segreteria. È possibile che Brenda agisca come un'osservatrice passiva perché intuisce che questa nuova relazione non sarebbe durata. Magari crede che Ricky in fondo l'ami ancora, che tutto ciò che deve fare è rimanere paziente, aspettando il suo momento. Ricky sarebbe tornato da lei di sicuro. Tutto ciò sarebbe anche potuto accadere, ma nel maggio 2015 arriva Kendra Hatcher. Kendra nasce e cresce in una piccola città dell'Illinois chiamata Pleasant Plains. Sua madre, Bonnie, possiede un negozio di trapunte. Kendra è il capitano della squadra di cheerleader del liceo e della squadra di pallavolo femminile. Va in missione all'estero per contribuire a costruire chiese e conduce studi biblici per aiutare i bambini di famiglie a basso reddito. Frequenta la DePau University nell'Indiana, dove si laurea in spagnolo e in biochimica. Dopo la laurea si iscrive al Kentucky College of Dentistry, dove studia odontoiatria. Kendra trascorre le vacanze di primavera collaborando con l'organizzazione benefica Habitat for Humanity. Un Natale si reca in Ecuador per eseguire lavori dentistici gratuiti per i bambini. Kendra aveva sposato il suo ragazzo del college, ma la loro storia non era durata. Anzi, il loro matrimonio non era durato. Nel 2010, sperando in un nuovo inizio, si trasferisce a Dallas. Lavora allo studio dentistico Smile's Zone e affitta un appartamento al Gable Park, numero 17. Il complesso si colloca in un quartiere appena nord rispetto al centro e lì dispone di una piscina a sfioro di acqua salata, una sala fitness, una bar gourmet, una cyber lounge e un portiere presente 24 ore su 24. Non so cosa sia una cyber lounge, ma andiamo avanti. Nel 2015, Ricky sta completando la specializzazione in dermatologia presso il Southwestern Medical Center delle Università del Texas. Ricky e Kendra si conoscono al 24 maggio grazie a una cena da Cozy Chicken nel cuore del quartiere Uptown di Dallas. Da quella cena la loro relazione fiorisce rapidamente, i due hanno gli stessi valori e interessi. A giugno, Ricky invia un'email a Brenda per farle sapere che ha una nuova ragazza, ma non menziona mai il nome di Kendra. Questo è importante. Dal canto suo, Brenda non fa domande su di lei, anzi, si dimostra disposta a conoscerla, vorrebbe essere sua amica. A luglio, quando Ricky ha necessità di riparare la sua auto, Brenda si organizza per fargliela lasciare presso un'officina di proprietà di una delle sue amiche. Va a prendere Ricky all'officina, lo accompagna al lavoro e infine lo riaccompagna all'officina. Brenda è piacevole, non parla della loro rottura. Con un sorriso si limita a dire a Ricky che lei fa piacere aiutarlo quando lui ha bisogno. Ma, una volta sola nel suo appartamento, Brenda crolla. Brenda aveva dedicato quasi tre anni della sua vita a Ricky. Viveva con lui, aveva indossato l'annello con cui gli aveva chiesto di sposarlo, aveva pubblicato sulla sua bacheca Facebook messaggi molto dolci in cui esprimeva il suo amore per lui. Era anche rimasta incinta di lui e aveva abortito. E ora? Ora era stata sostituita da Kendra. Brenda riesce ad accedere all'account Facebook di Kendra e legge tutti i suoi post. Apprende così che lei e Ricky erano andati in California in un resort fuori Austin, in Texas. Fatta eccezione per la loro visita in Messico per incontrare i suoi parenti, Ricky non aveva mai portato Brenda a fare un viaggio. Brenda a questo punto fa uno screenshot della foto di Kendra con indosso alla maglietta di Ricky, dove si legge la scritta I'm with Dreamy. Poi fa un altro screenshot di Ricky e Kendra in posa felici davanti allo skyline di Dallas. Una sera va a cena con Roberto Menendez, un venditore di auto che tra l'altro sembra sentimentalmente interessato a lei. C'è però un problema. Brenda trascorre la serata parlando del suo ex fidanzato e della sua nuova ragazza. In seguito dice a Roberto che vuole far visita a un'amica e gli chiede di guidare fino a Gables Park, ossia a casa di Kendra. Roberto accetta, i due salgono in macchina e l'uomo parcheggia fuori dal complesso. Se Roberto pensa che questa possa essere la sua occasione per baciare Brenda, si sbaglia di grosso. Brenda infatti passa tutto il tempo a scrutare attraverso il parabrezza cercando in vano qualcuno. In un'altra occasione Brenda va a cena con un uomo che aveva frequentato il liceo insieme a lei, Milton Martinez. Ancora una volta a cena Brenda parla principalmente di Ricky e Kendra. Poi di colpo chiede a Milton se conosca qualcuno che possa fare molto male a qualcun altro. Milton svalordito risponde, ascolta qualunque cosa tu stia pensando, lascia perdere. Brenda sta precipitando sempre di più, la sua gelosia si sta trasformando in qualcosa di ossessivo e pericoloso. Una sera incontra il cugino di Milton, Moses Martinez, per un drink e porta con sé una mazza da baseball in metallo. Gli dice che gli avrebbe comprato un'auto o pagato il mantenimento del figlio se avesse minacciato Kendra con la mazza da baseball. Attenzione però solo per spaventarla, eh. Moses rifiuta categoricamente la proposta di Brenda, ma non la considera pericolosa. Pensa che lei sia ubriaca e che stia straparlando. Brenda allora si rivolge a un'amica di nome Jennifer Escobar, che aveva conosciuto quando entrambe lavoravano al centro commerciale North Park. Brenda sapeva che Jennifer stava attraversando un momento difficile con il suo ragazzo. Di conseguenza esprime profonda preoccupazione per i suoi problemi e la invita a trasferirsi a casa sua. All'inizio di agosto Jennifer si trasferisce a casa di Brenda. Ha appena disfatto le valigie, quando l'amica inizia a parlarle di Ricky e Kendra senza mai smettere. Brenda passa così tanto tempo a parlarle della coppia che Jennifer prende a inventare mille scuse per stare lontana dall'appartamento dopo il lavoro. Brenda si offre di comprare a Jennifer qualsiasi cosa, un'auto, delle sostanze, ma vuole avere qualcosa in cambio. Il suo aiuto per venticarsi di Kendra e Ricky. Brenda dice a Jennifer che intende usare la mazza da baseball e colpire Ricky fino a mandarlo in coma. Poi vuole uccidere Kendra afferrandola da dietro per i capelli e iniettandola una sostanza mortale per mezzo di una siringa. O ancora ipotizza picchiarla a morte. Jennifer a questo punto è spaventata. Il discorso resta in sospeso quella sera. Jennifer non dice né sì né no. Nel frattempo Brenda riesce ad avvicinarsi a una delle amiche di Jennifer, una madre single di 23 anni di nome Crystal Cortez. La ragazza era andata nell'appartamento un paio di volte per incontrare Jennifer e per lasciare che suo figlio di 6 anni nuotasse nella piscina del complesso. Crystal vive con il bambino a casa della nonna in una zona a basso reddito di South Dallas e non ha molti soldi. Per l'esattezza guadagna 11 dollari l'ora lavorando come receptionist e assistente in uno studio dentistico. Crystal ammira Brenda. La donna si veste bene, si trucca con cosmetici costosi, guida una Lexus, anche se usata, e in casa ha due divani in pelle e due televisori dallo schermo enorme. Crystal è convinta che Brenda sia simpatica e carina e vuole fare amicizia con lei. Brenda così inizia a portare Crystal a cena fuori. Durante queste serate le racconta della sua relazione con Ricky e poi dell'arrivo di Kendra. Le dice che Kendra è la ragione per cui Ricky non si sta prendendo cura di lei e conclude con questa esatta frase. Eliminerò Kendra, non ce la faccio più. E quindi che succede? Brenda offre a Crystal 500 dollari in cambio del suo aiuto nel compiere l'omicidio di Kendra. Crystal, che non è mai stata arrestata prima e non ha mai fatto niente di illegale, in questo caso dice a Brenda che l'avrebbe aiutata. La domanda è, perché l'ha fatto? Perché Crystal ha accettato una somma così irrisoria? Perché ha scelto di aiutare Brenda che conosceva soltanto da un paio di settimane a compiere l'omicidio di una donna che neanche aveva mai incontrato? I problemi economici di Crystal sono davvero avvilenti, non riesce ad arrivare a fine mese e deve mantenere suo figlio. Sente di non avere altra scelta o meglio, pensa che questa sia un'opportunità da accogliere per riuscire a vivere un pochino meglio del solito, anche se per un periodo di tempo limitato, perché stavo parlando di 500 dollari. Dunque per diversi giorni Brenda e Crystal seguono Kendra in giro per Dallas. Si salvano anche di un binocolo per la visione notturna che Brenda aveva acquistato. Decidono che il modo migliore per uccidere Kendra è spararle. Ma poiché nessuna delle due ha esperienza con le armi, Brenda suggerisce di assoldare un sicario. Brenda chiede a Crystal se conosca qualcuno che possa aiutarle, dato che vive in un quartiere disagiato. Magari da quelle parti non sarà difficile trovare un complice. Le due donne attraversano il quartiere di Crystal, proponendo l'affare a diversi uomini. A un certo punto passano in prossimità della casa della madre di Crystal. Nel cortile c'è un amico di nome Christopher Love, che aveva portato con sé i suoi figli in modo che potessero saltare sul trampolino in cortile. Christopher, che si guadagna da vivere vendendo sostanze, ha 31 anni, è alto, magro e ha precedenti penali. Durante l'adolescenza, infatti, era stato condannato per aggressione aggravata, rapina aggravata e furto con scasso in una residenza. Inoltre aveva detto a un amico che voleva avviare un giro di prostituzione. Tutto ciò di cui ha bisogno sono dei soldi per iniziare. Brenda e Crystal seguono Christopher nel suo appartamento e si dirigono sul balcone per parlargli. Per impressionare Christopher, Brenda si inventa una storia, racconta che ha dei legami con un cartello delle sostanze. Gli dice che lo avrebbe pagato in parte in contanti e in parte in sostanze, per un valore totale di 3000 dollari se si fosse unito a lei per portare a termine l'omicidio di Kendra. Christopher accetta e Brenda gli chiede se abbia una pistola. In precedenza lei e Crystal si erano dirette verso un'armeria per comprarne una, ma all'ultimo minuto ci avevano ripensato, in quanto quell'acquisto sarebbe stato rintracciato facilmente. Per fortuna Christopher ha una Smith & Wesson calibro 40. Brenda e Crystal comprano dei guanti da far indossare a Christopher, in modo che non lasci impronte. Poi Crystal cerca su internet qualcuno che venda un silenziatore per la pistola, ma Christopher dice di non preoccuparsi, sa quello che deve fare e si occuperà lui di tutto. Alla fine di agosto Ricky e Kendra visitano San Francisco. È il loro terzo viaggio in California quell'estate e pubblicano delle foto su Facebook in cui sono ritratti in sella a una bicicletta tandem e su un go-kart. Pianificano di fare più viaggi a settembre, andranno a Cancun per il fine settimana della Bordei e nella città natale di Kendra, ossia Plays & Plains, in modo che Ricky possa incontrare la sua famiglia e partecipare al festival d'autunno che si tiene in città. Dopo soli tre mesi insieme Ricky e Kendra stanno già parlando di matrimonio. Nel frattempo il 26 agosto Brenda si laurea alla Stanford Brown, scatta diversi selfie in cui sorride con i suoi compagni di corso, la sua famiglia va alla cerimonia di laurea, le regala dei fiori e la porta fuori a cena. Sembra tutto a posto, Brenda è felice e soddisfatta del suo traguardo, spiega ai genitori e ai fratelli i suoi progetti per il futuro. Brenda è ancora in contatto con Ricky, infatti lui le aveva mandato un messaggio augurandole buona fortuna per gli esami finali. Inoltre le aveva detto che gli era già stato offerto un posto di lavoro in uno studio medico fuori sacramento e che si sarebbe trasferito lì a ottobre. Di conseguenza chiede a Brenda se conosca qualcuno interessato ad acquistare alcuni dei mobili presenti nel suo appartamento. Brenda deve aver accolto la notizia come un pugno nello stomaco. Si rende conto che sta per essere completamente esclusa dalla vita di Ricky. Lui sta per iniziarne una nuova 1700 miglia di distanza e Kendra senza dubbio sarebbe andata con lui. Brenda dunque decide di compiere l'omicidio il 2 settembre, ossia il giorno prima che Kendra e Ricky partano per Cancun. Prende in prestito una BMW argentata da un amico per farla guidare a Crystal. Per loro sfortuna quella mattina c'è un problema con l'acceleratore della macchina. Brenda e Crystal portano l'auto nell'officina di riparazione di proprietà di un amico di Brenda, José Ortiz. Lui accetta che le ragazze prendano in prestito la sua jeep nera mentre ripara la BMW. Crystal porta Brenda in una biblioteca pubblica dove Brenda si è organizzata per incontrare un compagno di corso e studiare per l'imminente esame statale di certificazione di igiene mentale. Un alibi apparentemente perfetto. Poi Crystal passa a prendere Christopher. Parcheggiano di fronte allo smile zone dove Kendra è già al lavoro. Per la maggior parte della giornata fissano l'auto di Kendra, una Toyota Camry Bianca. Intorno alle 2.30 Crystal mette in moto la jeep dicendo a Christopher che deve andare a prendere suo figlio a scuola. Riaccompagna Christopher a casa, va a prendere il figlio, gli compra un corn dog e lo lascia a casa della nonna. Dopodiché ripassa a prendere Christopher e guida fino ad arrivare di nuovo davanti al luogo di lavoro di Kendra. La donna è ancora lì chiaramente e finisce di lavorare presto quella sera. Se ne va seguita da Crystal e Christopher. I due però la perdono di vista nel traffico. Infatti Kendra fa una deviazione verso casa di un'amica per prendere in prestito una macchina fotografica subacquea da usare durante lo snorkeling a Cancun. Crystal e Christopher si dirigono al garage del lussuoso Gable Park per aspettare. Una scarsa mezz'ora dopo Kendra arriva. Christopher che era rimasto rannicchiato sul sedile posteriore scende dalla jeep subito dopo che Kendra li supera per parcheggiare al solito posto. Si dirige verso la macchina della donna e proprio mentre Kendra sta uscendo dal veicolo prende la pistola e le spara la testa. Hashem Saad che si trova nel garage sente un urlo poi subito dopo due colpi di pistola infine vede una jeep sfrecciare fuori dal garage. Quando non avverte più alcun rumore sale in macchina e se ne va ma mentre esce dalla rampa scorge il corpo di una donna senza vita così chiama i servizi di emergenza per denunciare la sparatoria. I primi soccorritori si precipitano sul posto ma non riescono a salvare la vittima che viene successivamente identificata come Kendra Hatcher. Frammenti di proiettile e un caricatore di pistola vengono trovati a terra vicino al corpo di Kendra. La sua borsa è scomparsa ma il suo cedulare è ancora nel garage sul pavimento. Sebbene l'omicidio è presente i stegni distintivi di una rapina andata male la modalità in cui è avvenuta la sparatoria suggerisce un'esecuzione. La ferita di ingresso si trova sulla parte superiore della testa e il proiettile è uscito attraverso il mento. I residui di arma da fuoco suggeriscono che le mani della vittima si fossero alzate dietro la testa nel momento in cui le avevano sparato. Quando avviene l'omicidio Brenda è nel ristorante Chilles, sta bevendo qualcosa con José, uno dei suoi compagni di corso che gli aveva dato un passaggio dalla biblioteca al ristorante. Lei e José tornano a casa sua dopo le 9. Brenda chiama Crystal per avere conferma che il compito sia stato completato. Inoltre le dice di guidare fino all'officina di José Ortiz in modo da scambiare la jeep con la BMW. Brenda deve essere elettrizzata a questo punto, sembra che il suo piano sia andato a buon fine. Quando la polizia interroga Ricky quella notte, lui dice che non ha idea di chi possa aver voluto uccidere Kendra. Non menziona Brenda come possibile sospettata anche perché quando le ha scritto di aver perso la sua ragazza, Brenda si è mostrata così preoccupata, così triste, così disposta a fare qualsiasi cosa per aiutarlo in quel momento di dolore. Eric Barnes, detective dell'omicidi della polizia di Dallas, si sta occupando delle indagini. Al momento può valersi soltanto di un video di sorveglianza sgranato che riprende una donna che guida una jeep nera mentre si dirige fuori dal garage. La telecamera di sicurezza del Gables Park mostrano che la jeep nera era arrivata nel garage alle 19.15 poco prima dell'omicidio. Intorno alle 19.42 la vittima, la dottoressa Kendra Hatcher, si era fermata nel parcheggio. Non c'è dubbio che l'individuo che esce dalla macchina dal sedile posteriore la stava aspettando. Non appena Kendra si ferma si vede chiaramente il tiratore camminare verso l'auto della donna per poi tornare alla jeep e lasciare velocemente il garage. L'autista, una donna, è stata ripresa dalle telecamere. Il detective decide di pubblicare il video sui media e... Giuseo Ortiz, il proprietario della jeep, lo vede. Allarmato chiama Brenda, la quale spiega frettolosamente che Crystal aveva guidato la jeep tutto il giorno. Brenda aggiunge che crede che Crystal abbia un problema di dipendenza. Forse era nel garage per comprare della sostanza, ma qualcosa era andato storto. Giuseo ha paura di guidare la jeep ad allasteme che possano fermarlo. Allora Brenda gli suggerisce di dipingerla di un altro colore. Gli consiglia anche di non dire a nessuno della loro conversazione, tuttavia dopo aver parlato con la sua famiglia, Giuseo decide di incontrare Burns, il detective. Gli parla di Brenda e Crystal, quindi il detective ricontatta Ricky per un altro colloquio. Anche Ricky aveva visto il video e almeno per un attimo, in effetti si era chiesto se la donna al volante della jeep fosse la stessa Brenda. Dopodiché, Burns chiama Brenda che è di nuovo in biblioteca a studiare per l'esame e manda degli ufficiali a prenderla. La portano in una delle stanze degli interrogatori della divisione omicidi. Brenda indossa un berretto da baseball nero, una maglietta a righe colorate, pantaloni da yoga neri e scarpe da tennis bianche. I suoi capelli sono raccolti in una coda di cavallo. Dopo l'ingresso di Burns del detective, Brenda nota un braccialetto che alcuni cristiani indossano come a comunicare che Gesù Cristo viene prima di ogni altra cosa nella loro vita. Brenda dice che anche lei è credente, incrocia le gambe, si sporgi in avanti e guarda seriamente il detective mentre lui le spiega che sta indagando sull'omicidio di Kendra Hatcher. Brenda si mostra perplessa. Come è venuto fuori il mio nome? Chiede. Il detective la interroga per più di due ore. La donna gli dice che la sua relazione con Ricky non era poi così seria. Quando si erano lasciati non era rimasta turbata. Aggiunge che non ha mai saputo il nome della sua nuova ragazza, ma soprattutto che aspetto avesse. Burns le chiede di raccontarle dove si trovava il giorno dell'omicidio. Brenda non dice mai di essere andata da Giuseppe. Racconta solo che quella mattina la sua amica Crystal l'aveva lasciata in biblioteca ed era andata a riprenderla la sera da Chilis. Brenda apre il portafoglio ed estrae una ricevuta ben piegata del ristorante per dimostrare al detective che non poteva essere stata al Gables Park, ossia a casa di Kendra. Durante l'interrogatorio un ufficiale informa a Burns che Crystal è in centrale e il detective va a interrogarla in un'altra stanza. Ebbene Crystal ammette di aver guidato la Jeep nel garage del complesso di appartamenti, ma racconta storie diverse sul motivo per cui si trovava lì. Inizialmente dice che stava cercando un parcheggio perché voleva cenare in un ristorante messicano a un paio di isolate di distanza. Poi cambia versione, riferisce che il giorno della sparatoria era stata lì con suo figlio, aveva parcheggiato in garage per poi portarlo a giocare nel vicino Clyde Warren Park. Dopo un po' inventa che un uomo di nome Lamar, che lei non conosceva, le aveva puntato addosso una pistola e l'aveva costretta a portarlo nel parcheggio per rapinare Kendra. Solo alla fine ammette che Brenda aveva pagato lei e questo Lamar per fare la rapina, ma aggiunge che non aveva idea che Lamar avrebbe sparato a qualcuno. Dopo l'attacco Lamar era risalito sulla Jeep e le aveva ordinato di andarsene. E chiaramente Crystal non aveva protestato proprio perché lui era armato. A questo punto Burns torna nella stanza in cui si trova Brenda, determinato a convincerla a confessare. Invece di affrontarla duramente come accadrebbe in un tipico interrogatorio di polizia, le parla con gentilezza. Le dice «So come ci si sente ad avere il cuore spezzato. Capisco cosa vuol dire desiderare qualcosa che non puoi avere. So anche cosa si prova a volere qualcosa così tanto da essere disposti a fare qualsiasi cosa per ottenerla». Brenda scuote la testa e mi manda un no, ma Burns insiste. Tutto ciò ruota intorno a te, tutto a causa di qualcosa che non potevi avere. Non potevi riaverlo finché era viva. Il detective non distoglie mai gli occhi da Brenda. Mai. E gli dice «Penso che odiassi il fatto di non essere abbastanza per ricchi. Forse non gli piaceva il tuo aspetto. Forse non voleva più stare con una semplice igienista dentale. Voleva una dentista. Forse non gli piaceva il fatto che i tuoi genitori non fossero benestanti. Forse i suoi standard erano troppo alti per te. Non so quale sia la verità, ma per qualche ragione non eri abbastanza per lui. E questa è una verità amara, difficile da accettare. Guardarsi allo specchio e dire «Cosa è lei che io non ho?». La voce del detective a questo punto si fa ancora più bassa e le dice «Non penso che tu sia una persona cattiva». Per un momento sembra che Brenda stia per crollare, ma alla fine non confessa niente. Quindi il detective si rende conto che avrebbe dovuto lasciarla andare. Allora la mette in stato di fermo nella prigione della Contea di Dallas con un mandato in sospeso per una multa non pagata. Ma Brenda estingue rapidamente la multa, dunque viene rilasciata. Nel frattempo il detective arresta Crystal con l'accusa di omicidio capitale. Pochi giorni dopo la polizia apprende dai tabulati telefonici che Crystal aveva inviato dei messaggi a Christopher Love nei giorni precedenti di omicidio di Kendra. Quindi non esiste nessun Lamar, esiste Christopher. Che fa la polizia? Perquisisce l'auto dell'uomo e trova la Smith & Wesson dentro uno scompartimento laterale. I test balistici rivelano che è l'arma del delitto usata per sparare a Kendra Hatcher e lo arrestano. Poi vanno a cercare Brenda per arrestare anche lei, ma la donna è già salita su un autobus diretto in Messico. Viene inserita nell'elenco dei dieci ricercati più pericolosi dell'FBI e viene offerta una ricompensa di 100.000 dollari in cambio di informazioni che possono condurre al suo arresto. Per sei mesi Brenda vive tranquillamente con i suoi parenti nella città di Torrion, 200 miglia a ovest di Monterrey, nel Messico centro-settentrionale. Non fa nulla che possa tirare l'attenzione su di sé. Quando l'FBI in collaborazione con le autorità messicane la rintraccia, Brenda si arrende pacificamente. È una cittadina statunitense, ma poiché è nata in Messico è anche una cittadina messicana e secondo la legge di questo paese non può essere stradata e condotta in uno stato che prevede la pena di morte per il suo crimine. Dopo che l'ufficio del procuratore distrettuale di Dallas promette che non avrebbe chiesto alla giuria di condannare a morte Brenda, la donna viene estradata dal Messico e ricondotta negli Stati Uniti. Kevin Brooks, il procuratore capo del caso per l'ufficio del procuratore distrettuale di Dallas, sa di non disporre di prove così schiaccianti da mandare in carcere Brenda. Dopotutto lei ha un alevi per la notte dell'omicidio. Kevin Brooks allora incontra Crystal e le offre una condanna a 35 anni in cambio della sua testimonianza sui ruoli che lei, Brenda e Christopher hanno avuto nell'omicidio di Kendra. Crystal parla con il suo avvocato il quale le spiega che potrebbe essere rilasciata sulla parola in 15 anni. Dunque la ragazza accetta. Crystal confessa anche perché sua madre che sta lottando contro una malattia renale è andata a trovarla nella prigione della contia e le ha detto che era delusa dal suo comportamento. Le ha ricordato che l'ha cresciuta meglio di così. Dopo la morte della madre nel novembre 2017 Crystal fammenda dice «Sono stata sciocca, ero giovane e ingenua, sono stata presa dall'entusiasmo e dai soldi che mi aveva offerto Brenda». Kevin Brooks processa per primo Christopher nell'ottobre 2018. Basandosi sulla testimonianza di Crystal, i giurati impiegano due ore per dichiararlo colpevole e votano per condannarlo a morte tramite iniezione letale. Il processo di Brenda inizia al giugno del 2019. In aula la donna indossa abiti lunghi o pantaloni e occhiali oversize dalla montatura nera. Non si gira nemmeno una volta a guardare la famiglia di Kendra o la sua stessa famiglia. Tantomeno osserva la maggior parte dei testimoni che vanno alla sbarra. I giurati impiegano solo 20 minuti per emettere un verdetto di colpevolezza per omicidio capitale e il giudice condanna Brenda all'ergastolo senza condizionale. Per tutti coloro che avevano seguito il processo c'era ancora una grande domanda senza risposta. Di cosa soffriva esattamente Brenda? Era afflitta da un disturbo amoroso, ossessivo, un termine affettivo che alcuni psicologi usano per descrivere la patologia di qualcuno che è ossessionato dal possedere un'altra persona? La sua rottura con Ricky aveva innescato una sorta di trasformazione dentro di lei? Credeva davvero che il suo piano potesse funzionare? Che Ricky sarebbe tornato da lei una volta che Kendra fosse morta? La risposta la conosce solo Brenda, ma lei non dice nulla, non ho neanche trovato nessuna perizia psichiatrica. Mentre gli ufficiali giudiziari la scortano fuori dall'aula, attraverso una porta laterale, si ferma un istante e si gira per la prima volta. Forse sta cercando il volto di un familiare o quello di Ricky, sperando di riuscire a guardarlo negli occhi almeno per l'ultima volta, ma lui se n'è già andato. Ricky sta tornando a casa, sta guidando verso la sua nuova vita in California, dove lo attende una casa tristemente vuota, una casa senza Kendra. Brenda varca la porta e va incontro anche lei alla sua nuova vita, quella da carcerata. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, so che non è così sconosciuto, ma sono comunque curiosa di sapere la vostra opinione. Quindi come al solito ci becchiamo nei commenti qui sotto, io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!